Impenna la curva di contagi da Covid-19 in Calabria per una conta che comincia a far paura. Nelle ultime 24 ore, secondo il bollettino diramato dalla Regione, sono 53 nuovi positivi e si registra un nuovo decesso, questa volta all'ospedale Materdomini di Catanzaro. A destare preoccupazione ma senza allarmismo sono altri due casi nel Regino. A riferirlo è il sindaco di Bovadino Vincenzo Maisano, tramite Post Social. E' proprio a Bovadino chiuso per dieci giorni il commissariato di polizia. Intanto a Villa San Giovanni sono risultate positive altre due persone facenti parte dell'organico scolastico dell'alberghiero, ovvero un docente e un tecnico di laboratorio, entrambi non residenti nella città dello stretto. Per precauzione gli alunni delle classi entrate in contatto con i due soggetti sono state poste in stato di quarantena. Nella piana invece a Gioia Tauro altri quattro nuovi casi. Si tratta di un padre e figlio sottoposti ormai da tempo all'isolamento domiciliare obbligatorio e sotto controllo da parte del Dipartimento di Prevenzione. Per gli altri due concittadini, fa sapere il sindaco Aldo Alessio, è stata predisposta l'ordinanza di quarantena obbligatoria sia per loro che per i familiari con cui sono entrati in contatto. Lo studente di Sinopoli invece, che frequenta l'Istituto Severi, è in quarantena dal 28 di settembre e quindi non rappresenterebbe un potenziale pericolo di trasmissione di coronavirus. Mentre allarmismo inutile e ingiustificato prosegue il primo cittadino gioiese per l'Istituto Pentimalli. E se è zona rossa a Sinopoli, a Rosarno intanto è stato sgomberato il campo migranti per il focolaio sviluppatosi. Dopo la riunione in prefettura è stata messa in piedi una tendopoli a pochi metri dal campo. Da una parte i contagiati, dall'altra i circa 200 migranti negativi che affollano i container.